Oggi domenica 7 marzo sono 553 nuovi casi positivi al covid-19, di età compresa tra i 6 mesi e i 100 anni, che portano il totale dei contagiati dall'inizio della pandemia 57.498. 53 nuovi casi in provincia dell'Aquila, 104 in quella di Chieti, 252 il dato più alto nella provincia di Pescara, 74 nella provincia di Teramo e 70 sono i residenti fuori regione con residenza in accertamento. Eseguiti nelle ultime 24 ore 6.402 tamponi molecolari a cui si aggiungono 4.304 antigenici, per un totale di 10.706 test, di cui i positivi rappresentano il 5,2%. 10 pazienti deceduti, di cui 4 risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL, con il totale che è salito a 1.801 decessi. 42.131 complessivamente i guariti, 85 in più nelle ultime 24 ore e gli attualmente positivi sono dunque 13.565, 458 in più. 643 i ricoverati nell'area medica, 12 in più con il dato che torna a crescere. 84 i ricoverati in terapia intensiva, meno 2 rispetto a ieri, mentre i pazienti in isolamento domiciliare sono 12.838, 448 in più nelle ultime 24 ore.